Hey yo what's good everyone welcome back to my channel this is mauro and today we're gonna react to another vietnamese song this one is chiu chan i'm sure i pronounced it very wrong so as usual i ask you to be patient and forgive me on my bad vietnamese pronunciation but yeah guys i don't know very much about this song it seems like there's not gonna be any subtitles so we're just gonna enjoy their beautiful voices let's go okay 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 when people sing this good we don't really need to know what they're singing about and i have this car too i mean i have this brand of car pojo but not this car i'm too poor to afford this guy this is so beautiful scene in depth, certo? Questo è incredibile, perché gli vietnami sonnoi molto bello quando si rapsa Io voglio provare una canzone di viena per rap, credo che sarebbe abbastanza bello. C'è abbastanza bello, è molto diverso da altre lingue, perchè sembra che quando si raffa, si usano tutte le toni, e ancora sembra abbastanza bello. Questo è davvero bello, aspettate, provare un po' Ok Io, oh mio Oh mio Dio, che cosa? Cosa è questo? Guarda con le dilline Con le dilline di riptor Che cosa? Oh mio Dio Oh mio Dio! non è vero che la mia figlia ha una figlia credo che è una figlia non credo che la mia figlia prepara per te non lo so è per una cosa che una figlia non ho capito 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 Questa è una cosa che ha fatto No, no no... Lei è è Sofia... La me know perché voglio reagire a altriţ lesh Con la sua voce è incredibile Come si riuscite il sole di questo noto? Questa un giocatore è bello no no questo è un'iscrizione? non, mi dico che non è una storia reale perchè si trattava a lei, si trattava a lei Cosa? Cosa? Perché le persone fanno questo? Oh mio Dio! Cosa era anche... Oh mio Dio! Mi sono finito, mi sono finito, non voglio reagire a questo ancora. Cosa era anche pregna. Oh mio Dio! Questo non è una storia reale. Cosa? Oh mio Dio! Cosa? Ero? ... ... ... ... ... what the fuck are you fucking kidding me i mean you're about to enter the party and fuck another girl and all that pops up in your mind who the fuck are you nostradamus oh my god what the hell this is so fucking unbelievable oh my god he's canceling because he's no oh my god he's like okay whatever you know i just go home jerk off myself and uh not cheat on my wife so she's gonna survive what the hell what is this ending this is unbelievable oh yeah but the song was actually very beautiful i really like the song if anyone can provide me with a translation you know i will really appreciate it because i mean i tried to go along with the flow of the video since we don't have an actual english translation i guess that's what they were talking about i don't know so please let me know more down below in the comment section i really enjoyed this video so thank you so much for your recommendations if there are other vietnamese songs that i need to check out it doesn't matter if they are trending right now or if they were popular before or even older songs i can listen to anything so just leave your recommendations down below and if you're lucky enough i'm gonna react to it as soon as possible this is it for today i wish a nice day and i will see you next time